Non ti seguirei pure in capo al mondo per recuperare tutto il tempo perso Qui si tratta di noi Un inno all'amore che supera barriere e differenze Sono l'unità mediterranea e latina, il rap partenopeo e il ritmo irresistibile del reggaeton Presentato presso la sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania, il nuovo singolo degli Armonica ti porto se vuoi Oltre 17.000 visite in meno di una settimana dalla pubblicazione su YouTube Sono il biglietto da visita del giovane duo napoletano composto da Antonio Ucciero ed Erika Calì Che per questo loro primo lavoro hanno anche ricevuto il patrocinio del Corecom Campania La canzone rappresenta un po' noi, la nostra coppia parla d'amore, un amore senza barriere, senza confini Un inno all'amore Un inno all'amore però con un sound orecchiabile, fresco, estivo, un po' come siamo noi nella vita Allegri, gioiosi, un mashup di vari generi con un po' di reggaeton Molto estivo Due artisti, Antonio ed Erika, che hanno avuto la fortuna di incontrarsi tra le note della vita E fondersi in un'unica anima Un mix eclettico fatto di soul, pop, rap e dance Il singolo e il video, ideato da Peppe De Muro per la regia di Mauro Di Rosa Prodotto da Mad Men Factory Nascono dall'esigenza di scrivere, arrangiare, mescolare note E creare soprattutto un prodotto che parlasse di sé Soprattutto che cantasse l'amore e che fosse a modo suo autobiografico Alla conferenza stampa moderata dalla giornalista Rosanna Astengo Presente anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli E l'assessore alla cultura del comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Frai Oggi è l'anniversario della strage di Capà Ci sono tantissime iniziative in tutto il paese, anche a Napoli Ed è bello anche tra le tante iniziative organizzate a Napoli Essere qui e lanciare qui da Napoli unino all'amore Pozzuoli vuole promuovere un turismo che sia accattivante per i giovani Dunque quale migliore strumento di una videoclip Girata con tanta dedizione E soprattutto una storia che è una storia che tende la mano all'integrazione Ma che soprattutto sottolinea i valori positivi Gli artisti poi hanno voluto lanciare un messaggio a tutta Napoli E a tutti i cittadini della Campania Per riempire un'altra piazza per aiutare il piccolo Gabriele Io ti porto se vuoi Dove? A piazza Dante, dalle 9 alle 20 per il piccolo Gabriele Mi raccomando tutti insieme riempiamo un'altra piazza Basta avere dai 18 ai 35 anni ed essere in buona salute Un semplice berevo di saliva può salvare la vita il piccolo Gabriele Cosa importante, serve il vostro aiuto, mi raccomando Riempiamo un'altra piazza